successo su tutta la linea capitano nessun bersaglio attivo rimasto grazie mille però qua avevo impostato una cosa e però mi è scomparso andiamo a vedere un attimo qua forse qua devo vedere computer che continuamente mi spostano come se non ci fossero domani aha eccola qua tutti ricercati ma prima o poi vi troverò tutti soprattutto te silent coach aha l'inverno sta arrivando ma intanto andiamo avanti perchè la nostra missione non può aspettare ancora più a lungo via siamo pronti signore c'è una nuova missione aria aria disponibile operazione uccisione tracciata che c'è sta qua ma operazione trovo uccidi attacco zekkel ma questa qua non era ancora saltata fuori ma porca miseria mi dispiace cara terra ma dobbiamo rimandare perchè altrimenti questa non la potrò più fare operazione trovo uccidi attacca l'operazione di recupero dell'SDF zona di approvvigionamento la facciamo Vesta 3 non è stata l'unica colonia mineraria colpita dall'Olympus e adesso c'è una grande quantità di metalli preziosi alla deriva vicino al sole sono proprietà dell'UNSA gli schelter del SEDEF stanno scortando una squadra di recupero andremo a riprenderci la nostra roba la vicinanza al sole è un problema i nostri jekyll possono resistere al calore per pochi minuti dovrà essere una cosa rapida comandante Griff spero che mi abbia dotato di belle cose in effetti sono magnifiche andiamo vicino al sole e mi dispiace ma non sono io io devo andare in missione e mi sa tanto che devo mettere anche la cremina abbiamo due nemici da affrontare il SEDEF e il sole Niente di ingestibile Raider Capitano, la retribuzione resterà indietro per evitare danni termici il SEDEF vi individuerà subito Ho ricevuto, quanto tempo offrevo? Qualche minuto faremo partire il cronometro di un senato Questo è per Omar Sì Capitano Attenzione Scar 1, livelli di calore estremi Ok, 1-1 Ok, lancio in 3 Sbam Ormai sono diventato un maestro in queste partenze Bene, abbiamo 6 minuti Dove? Sono tutti lì Eh sì Anche perché sei a tempo qua Bastati, continuo a lanciare i flare Figli di puttana Uno è andato Aiuto, aiuto, aiuto Porca puttana Dov'è? Eccolo là No Dobbiamo prendere questo Bastardo che lanci i flare Schifoso Ancora basta lanciare i flare Lo sai che finiscono i flare? Oh Due Ah Con calma Con calma Non abbia fretta Abbiamo tanto tempo Ma tanto proprio Ma tanto tempo Tanto E si fa con calma Se si fa tutto con calma Ce la si fa Tana Dov'è? Dov'è l'asso? Aio Non lo vedo Oh Chi è che mi spara? No Bastardo Eccolo E va a fa' mok Non era quello Ma era quello lì Non ho appuntamento Un nemico Cattivo Cattivo appuntamento Brutto appuntamento Eccolo Flare Ma non mi scappi Eccolo No ho sbagliato Vaffanculo Dov'è? Con calma Mamma mia Quanta fretta Sicuro E va Fangull Ne mancano due Aio Non è quello Ma intanto che ci siamo Distruggiamolo Eccolo Eccolo Non devo perderlo Stronzo Giù di missili Li ho finiti Eh muoviti però Ok Ah non posso sparare Ah ora li devo stare dietro Altrimenti lo perdo Affanculo Eccolo qua Dai dai Sganza Sganza Partito Schifoso Oh Ne manca uno Ancora uno Dai rider Non c'è tempo Aio Mi è venuto a prendere lui? Dosta Aio Eccolo Stronzo Ti sparo addosso tutto Stronzaccio Mamma mia Lo prendo L'ho preso L'ho preso L'ho preso L'ho preso Mamma mia Demolito questo Dai No Non cambio arma Va bene questa Bam Oh Flare Con calma Dov'è lo Skelter? Eh dov'è? Eh dov'è? Dov'è? Non lo vedo Aio Dovebbe essere la navetta quella groscia? Ah è qua Quello lì? Mamma Aio No Eccolo Tu Dov'è lo Skelter Ah No Molto male Molto 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 Se non lo Vedo Dov'è Potrebbe essere quello là Col coso grosso Esattamente quello Ah dobbiamo battere più Skelter Aha È D della prima no? Ma porca porca Manca un minuto E non posso sparare Perfetto Porca puttana Ok Aio Mi ha colpito lui Eccolo Venga qua Bell'uomo Con calma Con calma C'è ancora tempo C'è ancora tempo L'ultimo mi sa Non abbia fretta Ok E che sto facendo? Dov'è? Aiuto Mayday Mayday Mayfuckingday Vaffanculo Non riesco a Capitano Mi riteni Questa volta Zio Fretta Questa volta Non ho tanto tempo Da perdere Aio Vedi questo Schifoso Oh Do scappi Do scappi Eh? Eh? To Vattene A quel paese Non si preoccupi Se la si fa adesso Boom Dov'è? Eccolo qua Venga un po' qua Lei Perché non mi arrivano I droni di scorta? Porca puttana Oh Dietro Dov'è? Ce l'ho dietro? Eh sì Vengo a prenderti Non c'è fretta Con calma Eccolo Vieni un po' qua Olle Oh Do cacchio Eccolo Bastardo Ti è Uh Fuga Ah ok Perfetto Mamma mia Uh Aumentiamo E poi Via Fuga Bella missione Grazie a tutti Prima della missione principale Era il dovere Finire tutte quelle secondarie Ma io Adesso Esigo Niente Non c'è Vabbè Sta facendo la fila Eh Potrebbe lasciare Anche questo Coso Agli altri No Vabbè Ma adesso Spera Che sia la volta Della missione Principale